Un dolce semplice, goloso e soprattutto anti-spreco. Torta leggera con frutta di stagione. La frutta di stagione va preferita non solo perché ha più sapore, ma anche perché rappresenta la scelta più consapevole se vogliamo pesare meno sull'ambiente. Ma non basta! Lo sapevate che circa un terzo della frutta fresca nelle nostre case viene sprecata? E uno dei motivi è che spesso non sappiamo come conservarla al meglio. Non va tenuta tutta vicino. Frutti come mele, banane o pesche messe assieme maturano più velocemente. Se ne abbiamo comprata troppa, possiamo congelare una parte anche da spucciata. E poi, io che amo frutti di bosco, ho imparato che il loro nemico numero uno è l'umidità. Conservateli in frigo senza lavarli e l'acqua usatela solo prima di consumarli. Ma soprattutto siate creativi! Esistono mille modi per riutilizzare la frutta in un sacco di ricette. Il limite è solo la fantasia. Il limite è solo la frutta in un sacco di ricette.